Rampa dei bastioni dietro Piazza Ferrucci, quella che vedete alle mie spalle è una splendida scalinata che fino a qualche tempo fa era un luogo anche di passaggio per molti turisti che sceglievano le vie qua dietro San Nicolò per ammirare la vista di Firenze. Una scalinata storica voluta dall'architetto Giuseppe Poggi che oggi vede questo cantiere ormai da troppo tempo fermo, dal costo di 300 mila euro che servirebbero per riqualificare questa scalinata. Qua siamo in Piazza Ferrucci come avete potuto vedere e vi faremo invece osservare quello che c'è dentro questo cantiere abbandonato dove non c'è un foglio che specifichi quali lavori vengono fatti, quando è prevista la fine di questi lavori, fatto sta che questo cantiere rimane aperto in queste condizioni in un luogo sinceramente dimenticato dall'amministrazione comunale, e speriamo che questo servizio possa servire a far sì che qualcuno intervenga, quantomeno a ripulire quest'area o a ritransennare un cantiere fermo da troppo tempo.